e vuoi che sia qualche giorno in malattia na 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 rosso nero, rosso nero, rosso nero buongiorno amici dello zoccolo duro buongiorno, buongiorno, buongiorno non ho ancora capito se rosso nero con mi fa schifo l'internazionale come i gobbi rubano è la stessa canzone, sono due canzoni diverse come i gobbi rubano il ritmo mi sembra lo stesso fatemi sapere, perché poi l'ho cantata lì a Praga ma ero perso e mi sono perso detto questo ragazzi oggi ho un po' di cose da dire un po' tante, su tanti argomenti infatti non so cosa mettere come titolo ne metterò uno a caso ho finito il video quindi non state troppo a guardare il titolo perché non so ancora cosa mettere allora, prima cosa ho incontrato di nuovo Furlani forse metto questo come dito ieri mattina sempre in Cadorna ero ancora lì verso nove e mezza, dieci ero in Cadorna alzo e c'era ancora Furlani tanto stavo parlando al telefono con qualcuno in inglese allora scendo dalla macchina e faccio dottor Furlani buongiorno mi fa buongiorno mentre era al telefono e faccio è già la seconda volta che ti becco qua a Cadorna io gli do del po' perché io sono un maleducato e lui dandomi del lei mi fa ma io passo sempre di qua se lei c'è è per forza che ci vediamo solo che poi lui stava camminando era al telefono gli volevo chiedere di Antonio Conte gli volevo chiedere di Antonio Conte ma che birba qua birba due gli volevo chiedere di Antonio Conte ma non sono riuscito promesso adesso d'ora in poi verso quell'ora lì cerco di andare in Cadorna che se lo ribecco promesso gli chiedo di Antonio Conte più che altro per vedere la sua reazione non è che mi derà niente però voglio vedere se sorride se mi dice no voglio capire un po' di più no? a me ribadisco arrivano ancora conferme su Antonio Conte altre conferme ieri un'altra conferma di un procuratore altra conferma dei ragazzi che sono andati a Matera ve l'ho detto quindi a me continuano ad arrivare conferme qua c'è qualcuno che dice no a me non risulta no a me risulta che si stanno parlando e che ci sono buone possibilità che arrivi Antonio Conte poi non hanno chiuso ma è da dicembre che parlano perché è prima di Natale che si sono incontrati con Ibrae questo ve l'ho già detto e ve lo metto per iscritto da quello che so io da quello che mi hanno detto quindi io continuo a ricevere conferme ve lo dico poi vedremo alla fine se avrà ragione lo zoccolo duro contro tutti che dicono no e questo riguarda Furlani e Antonio Conte discorso inchiesta discorso inchiesta adesso mi aspetto e vedo che qualcosa si sta muovendo che il signor Cardinale si faccia sentire perché adesso è il momento di attaccare perché se sei innocente e pare che per forza siamo innocenti perché qua si parla del nulla cioè l'accusa è sul nulla l'accusa è che Elliot sia ancora proprietario ma Elliot era proprietario del Milan e nessuno ha detto niente era tutto regolare cos'è cambiato da quando Elliot era proprietario a Elliot che non è proprietario aveva sempre il prestito con Lille ci abbiamo pure giocato contro quindi non è cambiato nulla quindi non c'è nessuna accusa sul Milan di conseguenza io mi aspetto un attacco aggressivo del Milan molto aggressivo perché adesso tutti i segreti tutte le trattative qualunque cosa tutti sanno tutto no ma c'è il segreto il cavolo perché sappiamo che funziona c'era già sul giornale il foglio di pif sul giornale quindi pensa te le cose del Milan gli affari del Milan li sanno tutti soprattutto i competitor e quindi qua se sei svelato il segreto aziendale bisogna andare a fare un bel controllo aggressivo e qua passa la procura poi passa la fisicale tutti sanno adesso tutti sanno i pip del Milan e non fa bene e soprattutto perché l'altra squadra di Milan non la vanno a controllare che hanno un presidente in carcere ai domiciliari e perché non controllano che sono 800 milioni di debiti e vengono a controllare noi che siamo sani no perché poi anche il danno di immagine quantale chiacchiere sai oh c'è la finanza in casa e dopo che c'ho la finanza sono regolare quindi anche se c'ho la finanza sono regolare qua adesso io mi aspetto una risposta bella aggressiva del Milan molto aggressiva perché non va bene sta cosa qua facciamo tutta sta roba della sostenibilità che non possiamo non prendiamo i turam per non pagare lo stipendio per non pagare le commissioni non prendiamo quello non prendiamo quell'altro perdiamo i giocatori a zero che vanno di là e si sentono i numeri uno in Italia con gli arbitri fuori dall'Italia vanno a casa però dopo pretendo che su queste cose si facciano sentire però se no non ci siamo se no non ci siamo chiudo ancora con il discorso a Cerbi ma non su a Cerbi cosa vuoi dire Zoccolino eh sì perché io voglio sapete come la penso io no secondo me siamo arrivati a un livello che si è esagerato si sta esagerando su questo discorso allora no al razzismo no agli insulti no a queste robe qua però no neanche a questo cinema senza senso perché vi dico così adesso vi faccio una domanda se Juan Jesus avesse fermato la partita come ha fatto Vignani escono tutti dal campo non rientriamo in campo finché a Cerbi non viene espulso e voglio il controllo VAR cosa succede? cosa succede? parlo di a Cerbi ma può capitare a chiunque può capitare a qualunque giocatore di qualunque squadra cosa succede? se il giocatore che tu gli hai detto nero con la G ribadisce così ma magari uno viene ti dice figlio di sono maledetto sei di qua sei di là tua mamma fa questo tua mamma fa quell'altro quello gli risponde nero con la G ok sbagliando gli risponde così e quello ferma tutta la partita e pretende l'espulsione se no la squadra non rientra in campo cosa succede? spiegatemelo voi cosa succede secondo voi? lo buttano fuori fanno un controllo VAR la squadra che è uscita dal campo perde a tavolino poi faranno ricorso cosa succede? io voglio sapere a voi cosa succederà cosa succede secondo voi? secondo me si è arrivato a un livello esagerato di sta roba qua no? scusate ma sono qua al parcheggio dell'IKEA meglio oggi che sabato che dite? secondo voi cosa succede? secondo me bisognerebbe mettere un freno a sta roba qua no no non saltare stavo quasi per saltare secondo me bisognerebbe mettere un freno scendo che se no non si vede niente però sono curioso di sentire il vostro pensiero non il mio il vostro pensiero ditemi secondo voi se siamo arrivati a un punto che si è esagerato e quindi bisogna un attimo ristabilire le cose oppure sbaglio io oppure no iscrivetevi al canale mettete un like seguitemi sulla pagina facebook vediamo in pomeriggio come per la tua come per la tua come per la tua grazie a tutti grazie a tutti